Ha solo 18 anni ed è aretina all'allieva del corso di formazione professionale Cook Swing organizzato da Confesercenti che ha vinto il campionato internazionale d'Italia 2015 per la categoria Commì della Toscana. Ho vinto la medaglia d'oro con un piatto che è un girello di pesce sciabola in crosta di foie gras e nocciole con un purè di pere angelica e delle patate croccanti. Sono molto felice ovviamente per questo riconoscimento e voglio dire grazie a Confesercenti e ai miei docenti perché mi hanno concesso questa opportunità grandissima per me. Ovviamente questo è solo l'inizio e vorrei anche dire a tutti i miei compagni di corso che è l'impegno che fa la differenza. Il riconoscimento non è solo motivo di soddisfazione personale per la ragazza ma è anche vanto per l'agenzia formativa impegnata nel promuovere la professionalità e aiutare i giovani ad affacciarsi nel mondo del lavoro. In un momento di cambiamento come l'attuale le professionalità non sono mai adeguate rispetto ai tempi quindi investire in formazione è importante, lo ha fatto la provincia in questo caso, noi siamo esecutori del corso. Vogliamo che la regione continui ora che le competenze passano alla regione perché è assolutamente fondamentale per crescere, occorre investire nella professionalità, non c'è altra strada. Un settore è quello della ristorazione e del turismo che è il perno delle attività economiche del territorio toscano e la medaglia d'oro di Bridget evidenzia l'attenzione della provincia a valorizzare questo settore attraverso i servizi di formazione. Noi oramai andiamo dicendo da anni che la ristorazione è parte integrante di una buona accoglienza di un territorio e conseguentemente del turismo. Sicuramente dentro la ristorazione uno degli elementi sostanziali e fondamentali è il prodotto. È il legame anche che la cucina riesce ad avere con il territorio attraverso i prodotti che questa esprime.